Eccoci, buonasera a tutti e bentrovati a Prisma a tutte le facce della cronaca. Buonasera Andrea, buonasera a tutti quanti, insomma una puntata ricca anche questa sera, come sempre d'altronde in primo piano andiamo a parlare di quello che succede nella Capitale. Quello che viene definito ormai come una subburracella aperta da moltissime, quello che sta succedendo, che è successo nelle ultime settimane, che forse non ha praticamente origine nel breve periodo, ma ha qualche radice che vale indietro, se andiamo a parlare addirittura degli anni 2000. Ma anche prima, perché si legge sui giornali, insomma, che si ritorna ai tempi degli anni 70, degli anni 80, insomma della Roma criminale. Ne parliamo con Emilio Orlando, collega giornalista qui in studio con noi. Buonasera a voi. Buonasera Emilio. E collegata direttamente anche ospite la dottoressa Maricetta Tirrito. Buonasera dottoressa. Buonasera. Eccola. Ce l'abbiamo, perfetto. E allora, io Emilio partirei con te perché naturalmente facciamo un excursus di quelli che sono stati gli omicidi qua a Roma negli ultimi tre giorni. Però io vorrei dare proprio qualche numero così velocemente, perché se andiamo a leggere online alcuni titoli, Corriere della Sera, omicidi a Roma, 14 delitti in 5 mesi e mezzo con 19 morti, che sono tantissimi. Cioè tu dici no, ce ne sono stati di più. A te le camere spettate che sono anche bassi rispetto a quello che è successo. Tre omicidi e una guerra tra clan, scrive Open nel sito. E poi, va bene, ancora messaggero, eccetera, eccetera. La Repubblica parla di un'evocazione della banda della Magliana, di quei tempi lì addirittura. Beh, in realtà quei tempi là non sono mai tramontati, ma oggi vanno letti in un contesto ben più ampio. Il dato è esatto, che 14 omicidi in 5 mesi lasciano pensare che comunque ci troviamo di fronte a uno scenario criminale ben definito, dove un'escalation di violenza sicuramente è rilevabile. Però se noi confrontiamo questo dato con il dato, ad esempio, del 2011, che fu l'anno orribilis per i fatti di cronaca legati agli omicidi, noteremo che in quell'anno furono 38 i delitti di criminalità organizzata e soprattutto 38 delitti, molti dei quali oggi sono ancora irrisolti, perché avvenuti in un contesto criminale ben preciso, avvenuti in un contesto dove le indagini all'epoca facevano più difficoltà rispetto ad oggi ad entrare, tant'è vero che oggi dovremo rileggere quei delitti di ieri alla luce delle risultanze, diciamo, investigative, informative, che nel corso degli anni i pentiti e i collaboratori di giustizia hanno raccontato rispetto alla geografia criminale romana. Questa è interessante, la geografia criminale romana, no? Tu sei andato indietro nel 2011. È paragonabile, è cambiata, è mutata invece nel corso di questi, insomma, 12 anni? Sì, è cambiata perché nel corso di questi 12 anni ci sono stati innesti importanti di etnie straniere che sono state, da un lato, innestate all'interno di gruppi criminali già preesistenti e da un lato sono diventate bande autonome, no? Quindi ecco, per esempio gli albanesi che prima venivano utilizzati come manovalanza o come fornitori di droga all'ingrosso, oggi, come giustamente sottolineavi tu Andrea, hanno preso potere perché grazie al loro potere recalcitrante, grazie alla loro volontà di imporsi sul territorio, hanno scalzato di fatto le vecchie organizzazioni criminali e si sono imposti sui territori. Hanno imparato che quando si fa il classico tirocinio... E abbiamo proprio dei dati che su questo ci dicono che questo è avvenuto in realtà nei quartieri, ad esempio, di San Basilio, dove la criminalità albanese riforniva l'andrangheta autoctona, i Marando, per essere precisi, che operano lì nel quartiere e che oggi invece ci sono resi quasi una roccaforte autonoma. Ad Ostia, ad esempio, abbiamo gruppi criminali importanti legati alla malavita del Sud America, questa sudamericanizzazione dell'Otti... Dei lotti, le sparatorie che ci sono state, le intimidazioni, come questi gruppi che prima venivano utilizzati come ovulatori perché la vicinanza dell'aeroporto di Fiumicino faceva sì che Costoro portassero la droga direttamente dal Sud America, oggi si sono messi in proprio, dopo un tirocinio, chiamiamolo così, in ambito delinquenziale e sono diventati autonomi. Quindi oggi queste dinamiche vanno lette secondo quest'ottica, tant'è vero che negli ultimi tre omicidi, quelli avvenuti lunedì scorso... Manuel Costa, Luigi Finizio... Manuel Costa, Luigi Finizio, ma lunedì scorso ci fu l'omicidio di Miai del Romeno a Pia Selmi, al Tiburtino. Ecco, questo omicidio va letto secondo quella chiave di lettura là. Quindi una criminalità organizzata sì, non più autoctona, non più romana, non più italiana, ma una criminalità organizzata che ha... Ovviamente di Manuel Costa e Finizio italiana. Sicuramente italiana, sicuramente delitti di matrice diversa, ma con lo stesso modus operandi. Quindi cosa vediamo? Che la criminalità straniera ha imparato a mettere in atto esecuzioni ed acquati criminali, ma ha anche assorbito le nostre usanze, diciamo le usanze criminali italiane, quindi quel tipo di agguato dalla moto, dalla moto in corsa che spara la vittima, lo hanno preso, diciamo, dalla nostra criminalità. Tant'è vero che nell'omicidio di agguato di Via Selmi si legge proprio questo. La vittima, Miai, sembra che avesse contratto un grosso debito pari a 40 mila euro con degli appartenenti ad una banda criminale dell'Est che faceva furti e rapine, in questo caso albanesi, con i quali aveva già discusso ed era stato già minacciato nel giugno del 2022, proprio lì, e su questo la polizia cristallizzò già l'episodio all'epoca, e questi due sembra si siano ripresentati e lo hanno ucciso. Manuel Costa è un'altra realtà, però comunque speculare alle altre due, è vero che non sono legati questi delitti, però cos'è che li accomuna? L'enorme flusso di denaro sporco che queste persone poi reinvestono, il debito di 100 mila euro, vediamo che sia Costa che Goffi, che è il suo assassino, avevano investito soldi in questi locali, locali molto chiacchierati, perché erano locali all'interno dei quali erano considerati un po' dei quartier generali, di incontri poco chiari, questo secondo quello che ci riferiscono i vicini, questi due si incontrano al culmine di una lì e si uccidono. Vediamo la pistola con la matricola Brasa, che sicuramente ha una provenienza da parte di gruppi criminali, e vediamo la provenienza dell'assassino da una piazza di spaccio del sud Italia, della provincia di Caserta, quindi questo ci fa inserire i due omicidi, è vero in ambiti differenti, ma con la stessa modalità e con gli stessi stilemi. L'ultimo è quello di Luigi Finizio, E qui anche il discorso è molto importante perché non solamente il fatto di essere stato freddato mentre si trova dal benzinaio, ma perché se andiamo nel dettaglio, c'è comunque un legame, una parentela che conta da questo punto di vista con la famiglia senese. Parentela con i senese da parte di Girolamo, che è il fratello della vittima di Luigi, che aveva sposato la sorella di Angelo Senese, quindi è cognato indirettamente del boss Michele Senese, che opera al Tuscolano, al quartiere Don Bosco, comunque in tutta Roma. Vediamo questa figura di Luigi Finizio, che quando è stato assassinato abitava via Flavio Stilicone, che è una via comunque da sempre contraddistinta dalla presenza di gruppi, diciamo di quartiere molto importanti e attivi nel narcotraffico, che però anche questo omicidio, sebbene avesse le modalità della criminalità organizzata, e le ha, perché quello è un delitto pianificato e ben studiato, quindi hanno seguito la vittima, hanno aspettato che si fermasse, hanno scelto proprio quella strada, perché quella strada è l'ideale, perché è una strada a senso unico, con un punto d'entrata e un punto di uscita. Non solo non c'è possibilità di fuggire, ma c'è anche la possibilità di controllare qualora arrivasse la polizia, quindi ecco, comunque era il luogo adatto per consumare un delitto. Allora... Nel 2011, scusa se ti interrompo, avevamo una catena di delitti apparentemente scollegata, ma poi le indagini hanno svelato che molti di questi erano collegati, non so se vi ricordate l'omicidio del fotografo sul Tevere, ecco, quello è un altro delitto risolto, l'omicidio di Edoardo Sforna, che oggi per certi versi assomiglia all'omicidio di Thomas Bericca da Latri, no? Abbiamo delle assonanze. Ecco, quindi vediamo l'età delle vittime sempre più bassa rispetto ad allora, e vediamo anche un tessuto all'interno del quale si spara di più rispetto a quello di allora, ma le vittime sono diverse. Beh, tu prima di andare, diciamo, essere on air, di andare in onda, avevi nominato l'omicidio Simmi. Di Flavio Simmi. Era giovane. Flavio Simmi era molto giovane, Edoardo Sforna anche era molto giovane, aveva 18 anni, Caranzetti era molto giovane, ecco, insomma, sono state una serie di vittime molto giovani, ma il tessuto era comunque sempre all'interno del narcotraffico, anche laddove, come nel caso di Edoardo Sforna, si trattò di un errore di persona. Oggi il numero di delitti che noi abbiamo, quindi parlo del 2023, è vero che non è altissimo, però è preoccupante per la qualità dei delitti che viene messo a segno. E' proprio di questa mattina la notizia che è stato arrestato l'omicida e il favoreggiatore del delitto che avvenne ad Acilia nel 2022, il delitto cosiddetto di San Valentino ai lotti di Acilia, è stato arrestato proprio questa mattina mentre rientrava dalla Spagna, e quell'arresto ci restituisce una verità molto importante su quell'omicidio, che oggi, al contrario di ieri, dove il movente era quasi spesso e quasi sempre legato alla droga, oggi non lo è più, non è detto che sia legato alla droga, è economico ma anche sentimentale, tant'è vero che ci sono grosse ipotesi investigative che ascrivono il delitto di Luigi Vinizio ad un ambito più sentimentale, ma legato alla criminalità organizzata, piuttosto che a interessi economico-criminali. Andiamo alla dottoressa. Roma è diventata una suburra a cielo aperto? Ma da un punto di vista sociologico, come si legge tutto questo? C'è una mappa strategica e amministrativa dei clan che è cambiata in maniera sostanziale, e devo dire che all'esamina di Orlando c'è poco da aggiungere, è perfetta e puntuale, è pur vero che da sempre Lazio e Roma in primis sono considerati un unicum, sono una realtà nella quale tutti comandano e riescono a gestire e a spastirsi quelle che sono le lottizzazioni di quartiere, i feudi personali. Oggi addirittura abbiamo una connotazione ancora più allargata, nella quale il feudo non è più esclusivo ma viene addirittura condiviso. A Torbella Monaca ad esempio si parla della convivenza fra Sparapano, Moccia, Cordaro, Bevilacqua, Longo, che sono tutte famiglie importanti che si intersegano e che si spartiscono quello che è il territorio. Lo stesso avviene ad Ostia da tempo con i fasciani di Spado e Casamonica, ma ci sono delle new entry importanti, i Pagnozzi ad esempio insieme a Emolè al Quarticciolo, piuttosto che alla Rustica, dove i Carlo Mosti che sono poco nominati ma non così sconosciuti stanno dando filo da torcere ad altre realtà come quelle della mafia nigeriana che si era insediata. E' certo però che in alcune realtà questo tipo di approccio, così come sta accadendo a Esenese, fa perdere dei pezzi. Poi le motivazioni per le quali questi pezzi cadono, se economiche, strutturali e sentimentali, poco importa perché lasciano spazio a tutta una serie di altre new entry che non tardano ad arrivare. Personalmente sono molto preoccupata rispetto a quello che sta accadendo perché significa che si liberano degli spazi e che verranno contesi nuovamente da un nuovo riordine delle intersecazioni delle farefamiglie. Ma non c'è, dottoressa, il pericolo che una di queste famiglie voglia emergere sulle altre? Secondo me in questo momento no, perché c'è una logica alternativa che è quella dell'unirsi e resistere a quelli che sono stati gli attacchi dell'ordine negli ultimi anni. E accade una cosa importante, li conosciamo, sappiamo i loro nomi. Era molto più difficile quando non si parlava di fenomeno mafioso a Roma, quando queste famiglie venivano viste come un puntino in una cartina geografica che non si riusciva ancora a dare connotazione e collocazione. E si parlava di criminalità spiccola. Oggi che il fenomeno è individuato siamo un passo avanti e quindi è indebolita la rete criminale e ha bisogno di tenersi nella rete delle connivenze e collaborazioni per essere salda. Dottoressa Emilia, lascio però un attimo a quello che aveva detto Emilio precedentemente, ovvero adesso la gente ha paura perché sta vedendo queste esecuzioni a cielo aperto, però anche Emilio qua in studio aveva detto che comunque questa linea non si è mai assopita. La gente perché ha cominciato ad avere, mettiamola così, più paura adesso rispetto comunque a qualche anno fa quando comunque queste situazioni accadevano lo stesso? Proprio perché adesso li chiamiamo, sappiamo chi sono e chi fanno. E non è più un fatto solo vicinale, è un fatto noto alle cronache che ci designano la mappa di quelle che sono le varie famiglie criminali e gli consentono così di acquisire sull'abitudine comune una potenza, una forza che adesso è ben nota e quindi l'omicidio piuttosto che lo spaccio indisturbato, solo a Torbella Monaca ci sono 13 piazze di spaccio ben distinte e regolamentate da una logica interna. E Roma, ricordiamolo, dottoressa, è senza prefetto in questo momento. Qua voleva arrivare. Non è, insomma, è un buco grande, no? Un vuoto grande. È come se mancasse il cerbero che controlla tutto quanto. Adesso non solo continuano a fare queste cose, come ha detto la dottoressa Di Rito, Emilio, ma anche, si sa chi è. Cioè senza il vuoto del prefetto, gli dai più spazio alla criminalità. Veniamo da una gestione prefettizia che è stata in mano per tanti anni a Piantedosi, all'attuale ministro degli interni, passata a Frattasi, adesso ci troviamo questo buco, diciamo, in prefettura. Il prefetto è l'autorità di pubblica sicurezza per la provincia e stabilire in un momento come questo, in cui, ripeto, la geografia criminale della città e della provincia si sta ridisegnando in base a quelle che sono le organizzazioni criminali anche straniere, no? La dottoressa prima ricordava le 14 famiglie che operano a Torbella Monaca, ai Durzi, agli Sparapano e ai Moccia, aggiungerei anche tutte le etnie rumene e le etnie del Nord Africa. Ricordo che a Torbella Monaca in pochi mesi ci sono stati 16 accoltellamenti all'infra, diciamo, di queste bandi. C'è la famiglia Calì che controlla gran parte di via dell'archeologia e poi bisogna ricordarlo, le inchieste che prima ricordava la dottoressa che hanno liberato degli spazi, no? Questi spazi sono stati riempiti da altri. Ma quello che non aveva, che non hanno liberato le inchieste, lo ha liberato il Covid. E mi spiego, durante la pandemia la piazza di spaccio fisica, la piazza di spaccio geografica, così come la si concepiva qualche anno fa, dove c'era la vedetta, dove c'era lo spacciatore, dove le macchine si accodavano per comprare lo stupefacente, oggi sono quasi scomparse, perché durante il Covid c'era il cosiddetto servizio di delivery, anche per la droga. Quindi tutto questo cosa ha portato? Gli interessi criminali si sono spostati dal basso, quindi dalla piazza di spaccio, quindi dove c'era il consumo al minuto, è salito. E oggi i grossi interessi si battono sulle forniture di stupefacenti, no? Su chi e come e dove deve importare le grosse quantità di droga. La catena di montaggio. Nella filiera dello spaccio, ad esempio, è molto importante oggi mettere al vertice della piramide non più l'Andrangheta o la Camorra, ma la mafia albanese, ad esempio, o la mafia nigeriana per quanto riguarda l'eroina. Ecco, questo ridisegnamento cosa porta? A spingere questa catena sempre più in basso, a farla diventare sempre più violenta. Perché l'Andrangheta e la Camorra hanno altri interessi, non più la droga. Hanno altri interessi, si sono riconvertiti anche in altri interessi, ma tutti coloro che erano rimasti sul traffico di stupefacente oggi sono costretti o ad abbassare i prezzi, oppure a fare una guerra di mafia, come quella che sta avvenendo non solo a Roma, ma anche in altre parti italiane, dove prima la grossa organizzazione criminale era molto attenta a non sparare, perché sparare voleva dire essersi indeboliti. Oggi invece sparare vuol dire riappropriarsi di quello che un qualcun altro gli ha tolto, o comunque di interessi criminali che ancora rappresentano una grossa fetta importante per i loro profili. Dottoressa, prima le avevo chiesto se c'era una famiglia che voleva preparare sull'altra, lei ha detto non penso, però vado a un articolo di ieri di Repubblica che titola Quei rituali stile Magliana nella capitale, la scia di sangue e cocaina che parte dalla periferia e riporta agli anni Ottanta. È d'accordo oppure per lei non c'è questo scenario? È una visione sicuramente giornalistica rispetto a fatti concreti che avvengono nello specifico nei vari punti periferici. Certo è che se volessimo disegnare singolarmente la storia di ogni municipio di Roma dovremmo raccontarla lungamente dagli anni Ottanta ad oggi. Oggi, così come diceva Orlando, c'è una logica totalmente diversa, perché è imbastardita da quelle che sono le modalità spicciole, perché le famiglie canoniche romane hanno appaltato la territorialità e quindi dallo spaccio più o meno delivery alla prostituzione, ma anche al riscuotere somme per varie modalità di racket, proprio alle mafie straniere, spesso agli albanesi che sui castelli romani stanno facendo, la fanno da padroni. È preoccupante anche quello che sta avvenendo alle porte di Roma, a Guidonia ad esempio, dove c'è un'escalation di portata criminale altissima, ma che si riversa sui quartieri di Roma più vicini a quella periferia, ormai all'accata. Da questo punto di vista, dottoressa, visto che lei lì opera molto spesso? Questa notte ad esempio c'è stato un blitz rispetto alla famiglia Spada, proprio perché Roberto Spada ha rilasciato, stava usufruendo, stava fino a questa notte usufruendo anche delle utenze in forma gratuita con allacci di… Pagare l'elettricità. Sì, furmescamente accroccati. Bonus luce, si è fatto da solo il bonus luce. Il bonus luce, però è singolare che persone come lui mettano sul petto una medaglia facendo queste cose. Infatti i post o quello che è uscito dopo questa notte, fa sorridere a chi è come me studioso di questo fenomeno perché non è stato arrestato. In fragranza di furto di luce oggi si viene arrestato e una persona che è all'obbligo di firma in attesa di una condanna per associazione di stampo mafioso e che appena reduce dalla carcerazione per la famosa testata Pier Vincenzi non viene arrestato per questa cosa. Ecco, quindi ci sono una serie di piccole medaglie che le famiglie criminali si mettono sul petto perché poi sono ganti rispetto alla criminalità spicciola di quartiere che li vede intoccabili ancora una volta. Emilio, il futuro... Sì, prego, dottoressa. Che in un post due giorni fa di spada, proprio di Roberto Spada, ci sono ad oggi 527 mi piace, mille pasta commenti di prestalibertà per lo spadino piccolo arrestato per cazzare. Quel problema è quello anche, il seguito che queste persone riescono ad ottenere in merito che quindi rende il tutto ancora più difficile. Però ecco, io mi vorrei concentrare anche su un'altra cosa, stai parlando delle famiglie, non è Emilio? Ma c'è anche il rischio che queste situazioni possano peggiorare anche perché le famiglie stesse possano un giorno o un altro anche allearsi e quindi rendere il tutto ancora più distruttivo, mettiamola così. Oggi più che un'alleanza è più verosimile forse a una disgregazione, no? Quindi una frammentazione. Quindi da un potere unico si... Vari satelliti. Si creano vari satelliti. Come poi in realtà è successo dopo l'omicidio di Diabolic, no? L'omicidio di Diabolic è stato un po' lo spartiacque per quanto riguarda alcuni affari criminali. Io mi ricordo benissimo, insomma, la modalità spaventò molto perché lui era lì seduto su una panchina. Piano giorno. Fai finta di correre. Dietro la schiena. E invece c'è una stessa. Ma se noi esaminassimo gli omicidi di un certo tipo avvenuti nella nostra città, sono avvenuti tutti con quelle modalità. Io ricordo abbiamo una scia infinita, mi permetto di chiamarla e di aggettivarla infinita di delitti, ancora irrisolti, tutti legati da un filo sottile che porta alla criminalità. Gli omicidi che sono stati risolti nella nostra città sono quelli di prossimità, no? Ma i delitti dove bisognava salire un po' più di lettura, un po' più di interpretazione, perché la chiave di volta era rappresentata dai cosiddetti campi perturbati che si trovavano altrove rispetto a dove era stato commesso l'omicidio, quindi magari per interessi commessi altrove o per sgarri avvenuti altrove, ricordo fra tutti l'omicidio di Tortellino avvenuto nel 2005 a Porta Metronia o l'omicidio Pau avvenuto a Via Le Manzoni o l'omicidio di Frau avvenuto ad Ostia, sono tutti delitti che fanno da spartiacque a un certo modo poi di progredire della criminalità organizzata. vediamo ecco anche Ostia, queste famiglie tanto blasonate, colpa anche della stampa che in un certo qual modo ha esaltato forse oltremodo quelle che erano le loro qualità criminali a svantaggio, a vantaggio invece di altre famiglie che nessuno mai ha toccato ad Ostia, no? Tipo i Triassi, i Contrera Garuana, no? che comunque rappresentano il vero volano della criminalità di Ostia. Tutti ci siamo concentrati sugli Spada e sui loro affiliati ovviamente, però andando a toccare in realtà soltanto la parte finale, il fanalino di coda di quella che è una filiera criminale molto più importante, no? Una filiera criminale che le indagini e le inchieste ci hanno svelato come era trasversale anche rispetto a un tipo di politica e come è trasversale anche rispetto a un tipo di politica che a Roma poi non è mai tramontata, parliamoci chiaro, quindi quella degli interessi... Ci sono delle infiltrazioni? Ci sono sempre state delle infiltrazioni, questo l'abbiamo visto soprattutto nelle elezioni dei municipi, dietro i consiglieri, eccetera, quindi politiche particolarmente aperte a quelle che sono i condizionamenti esterni oppure forme di politica particolarmente permeabili alle dinamiche criminali, abbiamo assistito, questo è trasversale, questo discorso riguarda sia la destra che la sinistra, attenzione, quindi questo ha portato anche in un certo qual modo a un eclissamento di quel potere criminale interstiziale, perché è questo che in realtà ci preoccupa, non è il fenomeno che tutti vediamo, non è la piazza di spaccio che sta sotto gli occhi di tutti, ma come abbiamo visto in questi ultimi delitti, le vittime appartengono a quel tessuto interstiziale che noi non vedevamo. Il famoso dietro le quinte. Il famoso dietro le quinte, vediamo ecco, l'omicidio dello chef avviene a riparo da occhi indiscreti, dietro questi locali che nessuno di noi conosceva, però abbiamo saputo che c'erano interessi criminali. era molto conosciuto, faccio un esempio banalissimo, in redazione molti di noi erano andati in questo ristorante. Fondamentalmente questi due, la vittima e l'autore del reato è l'assassino, avevano una genesi imprenditoriale, diciamo così, dubbia, chiamiamola così, Luigi Finizio, era un personaggio criminale, ma ha nascosto, non ne avevamo mai sentito parlare, ecco, questo è il potere che oggi preoccupa. Siamo arrivati al termine? Chiusura, sì, peccato perché avevo altre due domande, ma infatti tratteremo nuovamente l'argomento, perché sviluppi sicuramente ce ne saranno, speriamo, non in senso negativo. Ringraziamo Emilio Orlando per averci fatto compagnia nel studio. Grazie a voi, buona serata. Grazie anche alla dottoressa Maricetta Tirrito, grazie mille, buon lavoro dottoressa. Tempo di un break velocissimo, e poi nuovamente insieme, perché abbiamo molto altro di cui parlare. Restate con noi. Grazie a tutti.